Buon lavoro alla Milano Serravalle. Noi invece ci spostiamo ora nei laboratori dell'Università Bicocca per capire come rendere meno inquinata l'aria che respiriamo all'interno delle nostre case. Andrea Silla. Per tutto l'inverno abbiamo parlato di aria irrespirabile a Milano. Quasi quasi verrebbe da dire meglio chiudersi tra le mura domestiche di casa propria. In realtà oggi messa la prova vi dimostrerà e vi spiegherà che l'aria di casa è assolutamente inquinata come l'aria esterna o forse di più. Siamo qui con due docenti dell'Università Bicocca, Franca Morazzoni e Roberto Scotti. La casa è un ambiente chiuso quindi con scarsa ventilazione. Gli inquinanti che sono attivi fuori dalla casa sicuramente raggiungono un'elevata concentrazione all'interno delle mura domestiche. Le persone stanno cercando di correre ai ripari, diciamo così, comprando dei filtri, comprando dei condizionatori, insomma qualcosa che in qualche modo ripulisca l'aria. In realtà devono però verificare che sull'etichetta, diciamo così, ci sia scritta una piccola cosa. Sì, il normale filtro meccanico, diciamo, a carbone attivo non è sufficiente. Sono stati emessi a punto dei filtri che contengono il biossido di titanio. Questo sotto il raggiamento riesce a distruggere completamente gli inquinanti all'azoto e gli inquinanti al carbonio. Bene, adesso vediamo che cosa succede normalmente dentro un condizionatore o un filtro dell'aria che contiene questa tecnologia. Sì, eseguiamo l'esperimento in acqua anziché in aria per comodità. Qui in questo reattore vedete dell'acqua e dell'ossido di titanio che è la parte bianca. Aggiungiamo, accendiamo la lampada UV. Ecco, a questo punto che la lampada è accesa aggiungiamo il nostro inquinante organico. È passata mezz'ora, che cosa è successo? L'inquinante organico che abbiamo aggiunto è stato completamente distrutto all'ossido di titanio e si è trasformato in aria carbonica e acqua due sostanze non tossiche. Quindi anche nel nostro appartamento abbiamo un'aria quindi esente da inquinanti organici.